Musica dal vivo allo stabile di potenza, secondo appuntamento con la stagione concertistica rinascita dell'Accademia Ducale. Ieri sera la presentazione del disco Julien-François Biden Homage, esibizione per piano solo e musica da camera a cura del trio Marzia. A eseguire i brani in questo omaggio al compositore, pianista jazz contemporaneo, Erminia Nigro al clarinetto, Giuseppe D'Amico al contrabbasso, Lucrezia Merolla al pianoforte. Un'esebizione apprezzata dal pubblico presente, prossimo appuntamento con la grande musica classica tra una settimana, precisamente l'11 ottobre, sempre a potenza e sempre al teatro stabile.